La mia scelta è stata quella di raccogliere tanti materiali che avevo raccolto in 30 anni di viaggi in Iran fino agli ultimi di quest'anno e cercare di capire come poterli organizzare in una trama di racconto. Il vero scopo era raccontare la storia di questo paese e l'obiettivo era farlo in un modo che il pubblico italiano potesse in qualche modo leggerlo senza annoiersi troppo. Ma conta tutto per un giornalista, soprattutto per un inviato. Per un inviato a volte conta di più il proprio autista che lo porta in giro, di qualunque professore o leader politico, perché quello è magari quello che ti salverà la pelle o ti porterà nel posto giusto a vedere le cose o le situazioni o le persone che ti serve vedere. Quindi qualunque tipo di contatto importante, quelli che possono sembrare più trascurabili a volte sono i più interessanti e la strada dell'inviato è sempre poi piena di sorprese. Io credo che il nostro mestiere si è cambiato moltissimo e oggi anche il giornalismo scritto è un giornalismo multimediale. Chi scrive per un giornale molto spesso ha giornali che hanno siti internet, che hanno radio, televisioni e quindi è abituato anche a maneggiare diversi strumenti della scrittura. Ma le cose sono cambiate in un modo epocale. Io quando seguivo la guerra Iran-Iraq negli anni Ottanta raccontavo tre giorni dopo degli eventi che avevo visto, a cui avevo assistito una settimana prima e mandavo i pezzi con una macchina che forse nessuno di voi ha più visto che era il Telex. E quindi le cose sono cambiate molto da questo punto di vista. Quello che però non cambia è la tua voglia, la tua voglia di andare, di vedere, la tua sensibilità. Se legge i blog italiani c'è una fortissima protesta, mi pare, nei confronti del sistema di oggi in Italia. Se lei leggessi i blog italiani si immagierebbe di venire in un paese dove c'è una protesta continua e le piazze sono piene. non è così. Blog, Twitter, internet sono cose importantissime, è vero. Però non è quelle che mandano la gente in piazza. Quello che manda la gente in piazza è bene altro.